Comincio con questa citazione di John Jonas, che uso un po' come introduzione per spiegare di che cosa parlerò oggi. Ho messo qualche citazione in inglese che non ho tradotto, però penso sia abbastanza chiaro. Cioè partire da se stessa e ricerca appunto di ruoli femminili, di personaggi femminili, di raccontare storie che hanno a che vedere con le donne e in questa frase finale sono interessata nella rappresentazione di donne forti, quindi un po' un punto di partenza per me. Oggi naturalmente vorrei provare a guardare il lavoro di John Jonas, naturalmente lasciando da parte ogni tentativo, seppur vago, di dare un quadro generale del suo lavoro. Invece mi interessa concentrarmi su quello che secondo me è uno degli aspetti più importanti, più di rampenti del suo lavoro, ma naturalmente è un aspetto, diciamo, ce ne sarebbero anche altri da esplorare, che ha a che vedere dunque con il modo in cui lei esplora la questione della femminità, del genere, della differenza. E in effetti questo intreccio tra lavoro artistico e le questioni legate al genere è qualcosa che caratterizza il lavoro di molte artiste, anche in particolare di un periodo storico definito su quale poi tornerò. Però per dire che il mio interesse per John Jonas non è limitato ai lavori degli anni settanta, cioè ai lavori creati nel momento dell'emergere il movimento delle donne, ma diciamo mi interessa il modo in cui alcune questioni, alcune figure femminili, alcuni temi vengono attivate nelle sue opere attraverso tutto l'arco della sua carriera, naturalmente con un'attenzione particolare per alcuni lavori. Ovviamente John Jonas ha sempre rivendicato l'importanza che ha avuto per lei il femminismo nella, diciamo, nelle sue scelte estetiche, artistiche. Quindi, diciamo, nella prima parte oggi della mia intervento vorrei cominciare così, anche cercando di inquadrare il lavoro di John Jonas nell'ambito, diciamo, in contemporanea con l'emergere di un movimento delle donne, quindi a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. e, diciamo, articolerò la mia presentazione oggi attorno ad alcuni nodi, diciamo, che in qualche modo prendono le mosse da un tentativo di leggere il lavoro di John Jonas in un quadro storico ed epistemologico femminista, due aspetti, entrambi gli aspetti, diciamo. Quindi, diciamo, in generale mi concentrerò, forse, direi, su tre, potrei riassumere su tre nodi, tre questioni che riguardano, appunto, le cose di cui dicevo prima. Il primo ha a che vedere con, diciamo, le risonanze, le molteplici risonanze tra le opere di John Jonas e l'emergere di un movimento femminista di massa, quindi a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. Il secondo, che è un po' legato a questo, a che vedere con il nesso tra la costruzione del femminile e la rappresentazione visiva, cioè riguarda il rapporto così stretto, così conflittuale, che lega le donne al visuale storicamente, il modo in cui le artiste hanno affrontato questa questione. E, diciamo, una questione che cercherò di sviluppare anche rispetto alla tecnologia, no? Perché John Jonas, come sappiamo, è una delle pioniere anche del video e questa questione del nesso tra genere femminile e visualità trova così un punto di elaborazione importante nell'uso dell'immagine tecnologica in John Jonas. Infine, il terzo punto, il terzo nodo su cui concluderò, è forse quello più complicato, più difficile da esplicitare, quindi è veramente un po' un tentativo così, un'ipotesi, e che ha a che vedere con quella che chiamerei un'eccedenza femminile rispetto alla rappresentazione. Tornerò su questa questione più tardi. Per spiegare, forse, così annunciare cosa intendo, mi ispirerò ad un'affermazione di John Jonas che a un certo punto, in uno dei suoi dialoghi, delle interviste, dice che lei si sente come una maga elettronica, una electronic sources, una maga elettronica che fa apparire le immagini, che dà vita a delle immagini. Ecco, in conclusione del mio intervento vorrei provare a interrogarmi su cosa evoca questa immagine, questa figura della maga, o quest'idea dell'artista come un'attualizzazione di una figura mitica, antica, che rimanda alla maga, alla strega, alla guaritrice, eccetera. Dunque, in questo senso anche il titolo della mia conferenza, per formare la differenza, scusate, si riferisce quindi da una parte al modo in cui John Jonas affronta il nodo dei dispositivi visuali e del loro coinvolgimento nella produzione della differenza sessuale. Quindi la differenza sessuale è anche come un dispositivo di dominio, in qualche modo. Però il mio riferimento alla nozione di differenza si riferisce anche all'idea della differenza come il segno di un'alterità che è presa dentro questi meccanismi della rappresentazione, ma anche il segno di un'alterità che apre una possibilità, che apre delle possibilità alternative di abitare il mondo, di essere artista, di agire, eccetera. Quindi c'è questa anche doppia modalità in cui possiamo capire questo termine che mi interessa. Allora, poi ultima cosa, in questa mia introduzione, è che ovviamente il lavoro di John Jonas, come il lavoro di tutti gli artisti, esiste in un mondo di immagini, di relazioni con altre immagini, di altri artisti, eccetera. Quindi cercherò anche di fare delle connessioni tra alcune opere di John Jonas e alcune opere di altri artisti, che non significa che queste relazioni verranno presentate come delle, non lo so, in termini di influenza, per esempio, di rapporto diretto, eccetera. Né, tantomeno, in termini cronologici. Diciamo, è più l'idea di una costellazione di posizioni, il cui scopo, la cui scelta è abbastanza soggettiva, è la mia, e che è legata al fatto che mi fanno pensare, mi aiutano a pensare il lavoro di John Jonas, quindi non è una storia dell'arte, ecco, in qualche senso. Quindi comincerei con il sottolineare la necessità di esplorare il contesto storico in cui emerge il lavoro di John Jonas, quindi un contesto caratterizzato da una serie di rivolgimenti, una serie di trasformazioni che toccano tanto l'arte quanto la società nel suo insieme. E questi rivolgimenti, per riassumere, diciamo, che cosa intendo, sono caratterizzati, direi, da una parte sul piano delle, diciamo, delle pratiche artistiche, sul piano estetico, dalla progressiva dissoluzione, possiamo dire, dell'oggetto artistico tradizionale, e dall'altra, naturalmente, dalla presa di coscienza femminista, dunque nel momento dell'affermarsi di un movimento delle donne. Quindi gli inizi di John Jonas si collocano in questo contesto, così, di rottura, per molti versi, e in particolare John Jonas negli anni Sessanta transita attraverso un'esperienza molto importante a New York, che è quella, una delle esperienze più radicali dell'epoca, che è quella della Judson Dance Group a New York, che era un contesto, va detto, sin da subito, particolarmente favorevole alle donne, che erano anche la maggioranza dei partecipanti, e in questo era un contesto straordinario, anche per la New York degli anni Sessanta, direi. Per riassumere, i lavori realizzati nell'ambito della Judson Dance Group elaboravano criticamente questioni che avevano a che vedere con le discriminazioni, con le immagini del corpo, con la rappresentazione dell'identità di genere. e questioni come la dissoluzione dei ruoli di genere, l'interrogazione critica dei ruoli, in particolare per quanto riguarda la storia dell'arte, erano il punto di partenza di alcune performance storiche, insomma, su cui non mi soffermerò più di tanto, ad esempio quella del Sessantatré, World Words, di Yvonne Rainer e Stephen Paxton, in cui i due performer si presentano davanti al pubblico nudi ed eseguono in silenzio gli stessi movimenti, prima separatamente e poi insieme. Un altro lavoro, questo forse più conosciuto, legato a quell'esperienza qui, questa esperienza del Judson, questo site di Robert Morris e Karoli Schneemann, che ha, come dire, a che vedere con una interrogazione, possiamo dire, della divisione sessuale del lavoro, nel lavoro artistico, no? La modella, Karoli Schneemann, artista femminista, importantissima, che assume il ruolo dell'Olimpia, del modello, della modella, no? e Robert Morris con questa maschera che agisce nello spazio, costruisce e decostruisce lo spazio nel quale si trova il nudo, eccetera. Quindi una performance, un lavoro che in qualche modo interrogava le strutture della produzione, le condizioni della produzione dell'opera d'arte. Quindi negli anni Sessanta e negli anni Settanta il corpo cristallizzava una serie di questioni che riguardavano sia l'arte, le sue istituzioni, le sue pratiche, che i dibattiti politici e culturali dell'epoca. In particolare rispetto ai pregiudizi razziali e di genere che attraversavano l'America, gli Stati Uniti di quegli anni e che venivano però anche contestati in quegli anni. Quindi sul piano delle scelte formali direi che il lavoro di Joan Jonas quindi si scrive nel pieno diciamo delle tendenze dell'epoca nel quadro di una serie di posizioni che erano fortemente autoriflessive performance, past minimalismo, arte concettuale, eccetera. Cioè posizioni autoriflessine nel senso che si interrogavano sulle condizioni di produzione, disposizione delle opere d'arte sui linguaggi dell'arte, sulle istituzioni artistiche, sulle gerarchie che definiscono il sistema dell'arte. Quindi sui meccanismi anche di inclusione e di esclusione nel mondo dell'arte. E ovviamente nel quadro di questa contestazione, di questo ripensamento che investe tanto l'arte quanto la società nel suo insieme, che la questione dei rapporti tra i sessi si afferma con forza nel lavoro di moltissimi artisti. Questo è quello che racconta Joan Jonas ricordando così quegli anni, il momento anche in cui a un certo punto molti artisti hanno cominciato a interrogarsi su cosa significava essere una donna, a rendersi conto, a prendere coscienza, a divenire consapevoli della difficoltà dei ruoli che erano costrette, che siamo costrette a... con cui ci siamo chiamate ad identificarci, eccetera, eccetera. E questo è un momento veramente cruciale perché per molti motivi, naturalmente, uno dei motivi per cui questa fase è così importante storicamente perché come ha detto più volte Griselda Pollock, che è una importantissima storica dell'arte, teorica dell'arte femminista, Griselda Pollock ha sottolineato come in questi anni per la prima volta nella storia l'arte ha incontrato il femminismo, cioè l'arte con la sua storia millenaria e il femminismo anche con una storia già comunque relativamente lunga, il femminismo non nasce negli anni settanta, questo è chiaro, per la prima volta però si crea questo intreccio nelle pratiche artistiche che assumono consapevolmente e rivendicano consapevolmente una posizione femminista, questa è la prima volta che accade in questo modo. Per Abigal Solomon Godot, un'altra storica dell'arte molto importante, questo momento di questo incontro tra arte e femminismo rappresenta una vera e propria rottura epistemologica nella misura in cui chiamo in causa una riflessione globale a tutto campo sulle modalità della produzione dell'arte e quindi della produzione anche di conoscenza. Il femminismo, infatti non mi stancherò mai di ripeterlo, non è semplicemente una fase storica, non è soprattutto una fase storica, ma è una chiave di lettura del mondo, una chiave di lettura dei rapporti sociali, della cultura e dunque anche dell'arte, dei suoi metodi, delle sue pratiche, delle sue istituzioni. Dunque, se è vero che in questo momento, nei primi anni settanta, sia avuta per la prima volta questo incontro tra l'arte e il femminismo, questo non significa però che il femminismo possa essere considerato come un ennesimo ismo da aggiungere ad una storia già bella e pronta dell'arte, cioè non è che c'è il cubismo, il surrealismo, il minimalismo e poi il femminismo. No, non funziona così. Non è una tendenza artistica del Novecento, nonostante i tentativi anche istituzionali di contenere il femminismo come uno stile. Perché il femminismo non è una domanda di inclusione, comunque non può essere ridotta, una domanda di inclusione non è anche la posizione che portano avanti le artiste in questi anni, ma è un modo di stare al mondo, una posizione critica che interroga, cercando di trasformarli naturalmente, quell'insieme di pratiche, quell'insieme di istituzioni, di soggettività, di attori che definiscono l'arte e che sono strutturate attorno alla differenza sessuale e di genere. Allora, dopo questa filippica prendiamo un'opera di John Jonas che è Mirror Check, una performance che Jonas realizza nel 1970 a Los Angeles, alla Ace Gallery, e che fa parte di una serie di lavori di questi anni in cui diciamo, incentrati, in cui c'è una presenza preponderante dello specchio, di questi cosiddetti Mirror Pieces, una serie di lavori che ruotano attorno all'uso di uno specchio. Dunque, in questo Mirror Check, questa naturalmente è soltanto una fotografia della performance, Jonas si tiene dunque nuda, a una distanza di circa due metri, dagli spettatori, dal pubblico, e cosa fa? Ispeziona tutte le parti del suo corpo con un piccolo specchietto portatile, diciamo. Quindi comincia dal volto e poi scende verso il basso, eccetera, fino ai piedi, così. Quindi, questa azione di fronte al pubblico, cosa succede? Il pubblico non vede quello che vede la performance, non vede l'immagine nello specchio, ciò che vede sono i gesti compiuti da John Jonas in relazione a quello che lei sta osservando, a quello che vede rispecchiato nell'immagine. Quindi, chi guarda in questo modo ha un'esperienza sussidiaria, secondaria dell'immagine allo specchio, vede una donna che osserva, riflessi in uno specchio, i dettagli e i dettagli del proprio corpo. Non vede niente, o quasi, magari ogni tanto riesce a catturare un'immagine di quello che l'artista sta guardando che è il proprio corpo in frammenti, il proprio corpo ridotto, fatto a pezzi, in qualche modo da questa operazione di ispezione. Quindi, da una parte, il pubblico percepisce il corpo della donna come un'unità nella sua interezza, ma quello che vede l'artista è un corpo in frammenti, quindi, diciamo, questa performance mette in scena l'incompatibilità tra la percezione soggettiva e lo sguardo esterno, potremmo dire. In un'intervista sempre degli anni 2000, insomma, recente, John Donas parla del fatto che questa performance fosse direttamente per lei legata alla nascita del movimento femminista proprio perché mette in scena lo sguardo di una donna sul proprio corpo. Cioè, lei parla di un'appropriazione dello sguardo su se stessa a proposito di questa performance. Cioè, uno sguardo sul proprio corpo che non è accessibile al pubblico, il pubblico che è a sua volta preso nell'ambivalenza tra la sua posizione voyeurista, guardare il corpo nudo di una donna e l'impossibilità di accedere alla visione, a ciò che la donna vede. Questa questione di vedersi allo specchio, di guardarsi allo specchio naturalmente è determinante per l'identità femminile, per la formazione della soggettività femminile. In un saggio in cui discute questo lavoro, la storica dell'arte Anja Zimmerman, fa riferimento naturalmente alla teoria di Lacan, lo stadio dello specchio, la formazione della soggettività. Cioè, la teoria di Lacan, quindi un testo dei primi anni 40, se non sbaglio, o del 38, non ho un dubbio, ma comunque, insomma, in cui spiega come la formazione del soggetto, il divenire soggetto in qualche modo, comincia nel momento in cui il bambino riconosce la propria immagine allo specchio, vede la propria immagine riflessa. Nei stessi anni, però, nota Zimmerman, Simone de Beauvoir riprende questa idea dello specchio scrivendo che per le donne, invece, il vedersi allo specchio è qualcosa che dura tutta la vita, non è, diciamo, semplicemente uno stadio nello sviluppo infantile, è una condizione di esistenza quasi della soggettività femminile. Lo specchio, scrive Simone de Beauvoir, è l'oggetto atto ad affermare l'immanenza femminile, la sua corporeità, implicitamente in opposizione alla trascendenza maschile. Quindi lo specchio ha a che vedere con la rappresentazione di sé, con la propria soggettività, ma il modo in cui John Jonas usa gli specchi in queste performance, anche in mirror check, in qualche modo, provoca un senso di disorientamento nello spettatore, per esempio Mirror Piece, numero uno è il 69, dove finisce il corpo reale, dove comincia la sua immagine riflessa, oppure in un'altra mirror performance sempre del 69, il pubblico vede la propria immagine riflessa negli specchi che vengono portati dalle performer. Quindi moltiplicazione del sé, ma anche frammentazione dell'immagine corporea. Lo specchio è un elemento che troviamo spessissimo nelle autorappresentazioni femminili, è un motivo per esempio che viene attivato da alcune fotografe della modernità, quindi degli anni venti e trenta, per esempio in questi due autoritratti a sinistra, Ilse Bing, a destra Florence Henry, in cui effettivamente la questione dell'autorappresentazione rimanda a quella del vedersi riflessa nello specchio e ripropone questo nesso stringente che lega la donna alla propria immagine, l'immagine riflessa, allo stesso tempo però attraverso lo sguardo di colei che crea l'immagine, l'artista la fotografa che crea la propria immagine, in particolare questo di Ilse Bing ci sono due specchi perché c'è quest'altro elemento che viene dietro lo specchio sullo sfondo e in questi entrambi questi autoritratti mi sembra mettono in evidenza soprattutto quello di Ilse Bing lo sguardo della fotografa e il modo in cui la rappresentazione di se stessa che è qui raddoppiata in qualche modo in questa ambivalenza tra guardare e essere guardata come questa rappresentazione di se stessa interviene nella formazione della soggettività anche della propria forse soggettivazione come artista e fotografa quindi lo specchio è un elemento che torna in vari lavori anche di John Jonas in particolare i lavori in cui Jonas interroga esplora la produzione potremmo dire della donna come immagine la donna più come concetto come idea dunque la produzione della donna come immagine attraverso una serie di lavori in cui ripete mette in scena ruoli e gesti quell'insieme di ruoli di gesti che costruiscono la femminilità il genere femminile e in effetti questo ricorso alla dimensione gestuale che è onnipresente nel lavoro di John Jonas soprattutto in questi anni è molto importante proprio perché rimanda al corpo al modo in cui le donne sono costantemente identificate con il corpo in particolare due lavori Glass Puzzle del 73 e Organic Honeys Visual Telepathies qui tornerò sono emblematici di questa sua esplorazione dei ruoli femminili in cui Jonas porta avanti una riflessione sul nesso che lega insieme il corpo il genere e l'immagine questione che in questi stessi anni è ovviamente al centro del lavoro di molte artiste della sua generazione allora Glass Puzzle ovviamente bisognerebbe vedere i video però sennò sarebbe una lezione di molte ore quindi giusto così comunque questi video sono o in mostra o disponibili su web quindi Glass Puzzle John Jonas e una seconda performer Lois Lane eseguono una serie di movimenti sincronizzati che si riferiscono a delle posture corporee degli atteggiamenti corporei dei gesti dei movimenti che siamo naturalmente diciamo chiamati siamo abituati a considerare come naturalmente femminili in particolare questi gesti si ispirano alle pose delle fotografie alla cultura diciamo popolare di massa quindi è un archetipo se vogliamo di una di una femminilità erotizzata una femminilità che diventa spettacolo la prostituta John Jonas racconta che questi gesti si si ispiravano a una serie di fotografie all'inizio secolo che ritraevano delle prostitute a New Orleans in particolare quindi una messa in scena così che esacerbava l'erotizzazione della donna quindi questa è la figura della prostituta che viene riattivata attraverso la performance in un modo però che risulta del tutto spiazzante perché per via di questa dimensione rituale che anche per via dello sdoppiamento di questo lavoro di questa ripetizione di atteggiamenti corporei così sincronizzata che diciamo questo rituale che al contempo diciamo da una parte rimanda alle assegnazioni di genere ai ruoli eccetera come dei rituali della costruzione di sé dell'auto identificazione che però appaiono in qualche modo qui come spogliati da tutto con l'apparato che li naturalizza che li fa sembrare come naturali quindi quest'idea dell'identità come un teatro di sé potremmo dire era già un'idea che Jonas aveva sviluppato qui insomma insisteva un lavoro precedente del 72 che era anche questo una performance che poi esiste come video la performance integrava anche la performance dal vivo integrava la ripresa video e anche il rapporto in diretta con la videocamera un lavoro dove Jonas incarna un suo alter ego un personaggio fittizio che chiama Organic Honey che è una sorta di alter ego dell'artista che rimanda a una femminilità esacerbata direi a una iper femminilità significata dall'eccesso di ornamenti dall'eccesso di segni visivi di attitudini corporee che rimandano a un femminile erotizzato eccetera e in particolare quello che appare significativo in questo lavoro è il fatto che nel momento in cui incarna Organic Honey John Jonas indossa una maschera Organic Honey è anche un nome abbastanza così spiritoso però insomma ironico sicuramente che con questa honey che è cara carina tesoro eccetera quindi sempre questo vezzeggiativo che viene tipicamente attribuito alle donne quindi la maschera come l'elemento che naturalmente evoca la questione dello sdoppiamento identitario dell'altra e la percezione di se stessa come un'altra rapporto con lo specchio che era appunto una questione che già Jonas aveva esplorato nei lavori con lo specchio tuttavia durante John il video questa identificazione per così dire normativa con un femminile con l'eterno femminile con la seduttrice la donna la donna spettacolo eccetera questa identificazione viene costantemente disturbata sia sul piano dell'immagine cioè della distorsione dell'immagine video in particolare sia attraverso i gesti stessi dell'artista che tendono a svelare l'ambivalenza tra appunto l'artista come soggetto e la donna come oggetto creato dell'immagine Organic Connie in qualche modo è una figura anche eccessiva doppia la cui performance finisce con insomigliare a un numero di magia per esempio a un rituale strano in modo tale che da aprire uno spettro di identificazioni femminili che c'è della dimensione normativa della costruzione della femminilità che il video espone e contesta allo stesso tempo questa è una una così una dichiarazione di John Jonas torna a questo questo personaggio Organic Connie sulla sua teatralizzazione su come come è arrivata a questo a questo tipo di immagini e appunto in questa presentazione in questa riflessione sul suo alter ego lei chiama in causa l'idea appunto di una maga di una figura che sta facendo uno show però uno show in cui incarna appunto un personaggio più eliminare rispetto a quello della donna erotizzata e basta direi insomma sono elementi che si sovrappongono e che aprono forse a quell'eccedenza che cercavo di definire prima poi è anche interessante il fatto che qui lei racconta che durante la performance cerca sempre di tenere d'occhio quello che sta filmando quindi ancora una volta questa ambivalenza tra se stessa e la propria immagina e se stessa come un insieme di atti di gesti eccetera questa idea della diciamo dell'identità come un teatro di se stessa come un teatro personale l'uso della maschera evoca l'idea del femminile come una messa in scena come una mascherata come un insieme di segni visuali che è un'altra questione che troviamo nel lavoro di molte artiste di questi anni ma anche di altre epoche insomma di altri momenti molte artiste che esplorano proprio i ruoli che sono assegnati alle donne e il modo in cui questi ruoli incidono nella formazione della soggettività femminile nel 1929 una psicanalista inglese Joan Riviere sviluppa il concetto di femminilità come mascherata che poi è stato molto ripreso da varie teoriche femministe questa idea di femminilità come mascherata che descrive per la psicanalista è il conflitto in cui si trovano alcune che lei osserva in alcune sue pazienti che sono delle donne indipendenti il conflitto che vivono queste donne tra la loro indipendenza economica affettiva sessuale anche dal loro successo se vogliamo in sfere tradizionalmente considerate come maschili e quella che diciamo loro percepiscono come una identificazione femminile che dovrebbe essere quella giusta quindi come un'identificazione femminile più tradizionale se vogliamo ma che viene percepita e rappresentata come autentica quindi un femminile normativo che viene pensato come autentico e queste donne spiega Jean Rivière nel 1929 utilizzano la femminilità come una maschera lei dice così come una maschera che indossano quasi a voler dissimulare la trasgressione rispetto alla differenza di genere che loro incarnano per diciamo lo stile di vita eccetera quindi questa nozione di mascherata che come dicevo è stata ampiamente ripresa insomma negli anni 80 e 90 soprattutto può rivelarsi utile per pensare per osservare una serie di autorappresentazioni in cui il femminile è messo in scena come appunto un insieme di gesti un insieme di segni che costruiscono visivamente in primo luogo quindi come immagine l'identificazione di genere e non è un caso credo io che le pratiche legate al travestimento alla rappresentazione di sé come spettacolo visuale anche con l'eccesso che ne può derivare il divertimento l'ironia la teatralizzazione di sé sono pratiche che si affermano in particolare negli anni 20 e che poi tornano in modo significativo negli anni 70 ovvero durante due momenti storici segnati dall'emergere di nuove forme di libertà femminile anche dall'emergere di un conflitto tra i sessi se per esempio torniamo agli anni 20 il travestimento di Marcel Duchamp nel 1920 prende uno pseudonimo femminile comincia a firmare come Rossella V e nel 21 si fa fotografare dall'amico Man Ray travestito da donna travestito da Rossella V quindi incarna questo personaggio in effetti questo travestimento di Marcel Duchamp in Rossella V può anche essere letto come una risposta se vogliamo all'emergere di questa figura della donna moderna della donna di cui parla Joan Riviere qualche anno dopo nel suo saggio trasformazione dell'artista quindi maschile in un alter ego femminile seppur attraversata da una serie di ambivalenze su cui non mi starò a soffermare stasera segnala secondo me da una parte l'idea di un'instabilità dell'identità dell'artista dell'identità in generale cioè l'artista appare come una figura in qualche modo aperta alla contaminazione alla trasformazione all'alterità e dall'altra però anche l'idea in questa trasformazione c'è anche l'idea che la femminilità in fondo è non altro che un insieme di segni di gesti un'immagine e chiaramente qui c'è un nesso molto forte rispetto al femminile mercificato della cultura di massa riferimento a quella della star del cinema la pubblicità eccetera allo stesso tempo però il personaggio di Rossella Vie è anche una risposta ai nuovi comportamenti femminili da parte di un artista come Duchamp che era molto affascinato soprattutto dalle donne americane che trovava così terribilmente moderne da un artista che era forse anche interessato a riposizionarsi anche rispetto alla propria virilità diciamo in un contesto in un momento storico segnato da una modernità che si esprimeva tanto sul piano dei rapporti di produzione della trasformazione dei rapporti di produzione e di consumo naturalmente che sul piano dei rapporti tra i sessi l'immagine a fianco è una fotografia di Giorgio O'Keefe di Alfred Stiglitz Giorgio O'Keefe una patrice che conosciamo americana che Duchamp conosceva frequentava non tantissimo però si conoscevano a New York che come tante sue contemporanee incarnava in qualche modo questa nuova femminilità questa new woman moderna indipendente la cui immagine però era tutto fuorché stabile fissa il ritratto fotografico che le dedica il suo compagno poi marito Alfred Stiglitz il celebre fotografo mostra secondo me proprio questa instabilità nei meccanismi di identificazione di una donna come Giorgio O'Keefe un'instabilità che è anche qui confrontata naturalmente con i tentativi da parte maschile di contenere questa libertà diciamo di cui una donna come O'Keefe poteva essere un simbolo dentro una cornice per esempio della cornice del rapporto eterosessuale però vediamo l'idea dell'identità del travestimento di se stessa come una messa in scena questa è un'immagine che fa parte di una serie di decine forse centinaia di fotografie che Stiglitz ha scattato a O'Keefe dall'inizio della loro relazione attorno a 1917 fino agli anni 40 quindi è un ritratto che dura più di vent'anni e dove insomma questo conflitto è veramente visibile nel rapporto tra i due quindi questa idea di una natura performativa se vogliamo visuale della femminilità torna poi negli anni 70 nel lavoro di tantissimi artisti che però lo riattivano riattivano questa questione dandogli un significato adesso apertamente politico e sono moltissimi gli esempi che potrei fare a questo proposito ne faccio soltanto due scelti veramente in modo del tutto parziale per rimanere negli Stati Uniti sicuramente Hannah Wilkie è una delle artiste che ha più insomma che più si è interessata alla questione della donna come immagine in particolare attraverso la fotografia e con un'esplorazione anche del del narcisismo femminile ancora una volta questa questione in rapporto con lo specchio e che ha creato una serie di immagini di se stessa che hanno una serie di autorappresentazioni delle fotografie performative che hanno anche creato qualche polemica all'interno del movimento femminista di cui l'immagine di destra è un è un segnale ecco dentro dentro il femminismo attraverso tutti gli anni settanta e anche gli anni ottanta prima della sua morte prematura Hannah Wilkie ha realizzato dunque una serie di fotografie performative incentrate sulla rappresentazione erotiche della donna tra storia dell'arte e cultura di massa Wilkie si è interessata alla sessualità la femminità il femminismo che per lei era veramente cruciale nella scelta di esprimersi attraverso il proprio corpo e queste immagini pongono domande per esempio una donna che mette in scena il proprio corpo attraente una donna giovane attraente come era Hannah Wilkie che si mette in scena attraverso pose stereotipate sta soltanto riproducendo i meccanismi che opprimono le donne oppure sta elaborando al contrario un punto di vista critico su questi ultimi domanda che si è posta all'epoca anche in modo polemico rispetto a questo lavoro io credo che il lavoro di Hannah Wilkie ci costringa a confrontarci con queste questioni complicate spingendoci anche a riflettere sulla difficoltà di pensare ad una femminilità che possa esistere al di là indipendentemente dalla sua dimensione visuale e performativa e Wilkie pone queste domande attraverso l'esposizione di sé con una presa di rischio anche molto forte attraverso la polemica la provocazione forse rispetto proprio a questo lavoro penso sia importante sottolineare come il film la fotografia il video la performance si configurano come i linguaggi privilegiati per esplorare l'identità di genere e quell'insieme di ruoli che costruiscono la donna l'uso di film e fotografia più delle volte veniva associato ad una pratica performativa che permetteva di elaborare punti di vista critici rispetto al modo in cui le donne sono definite attraverso un insieme di ruoli stereotipati legati alla seduzione alla maternità al lavoro di cure eccetera il processo dell'autorepresentazione diventa così nel lavoro di queste artiste un luogo di sperimentazione ma anche di invenzione di sé in qualche modo e questi temi contrariamente a una vulgata forse un po' troppo riduttiva non erano appannaggio delle artiste americane ma attraversano moltissime delle pratiche artistiche informate dal femminismo anche in Italia in Italia dove ancora così spesso mi tocca ascoltare frasi del tipo ah ma non c'erano artiste negli anni 70 oppure no in Italia non c'è mai stato nessuna esperienza femminista dell'arte no non è così naturalmente semplicemente è un sommerso un sommerso che insomma che sta piano piano riemergendo con fatica ecco anche in Italia la questione della natura oppressiva dei ruoli che definiscono la donna è stata al centro di molte di molti lavori artistici è stata al centro anche diciamo di posizioni teoriche è stata in particolare elaborata in un modo del tutto originale da Carla Lonzi ad esempio no che come sappiamo veniva da un'esperienza molto lunga molto importante come critica d'arte e Carla Lonzi che nei suoi scritti femministi esplora proprio la possibilità di uno scarto tra la soggettività e quell'insieme di ruoli di gesti di relazioni che costruiscono la donna come un essere sussidiario come un essere dipendente e questi temi quindi sono presenti anche nel lavoro di molte artiste questo è un esempio un lavoro di Marcella Campagnano l'invenzione del femminile ruoli una serie fotografica nella quale Marcella Campagnano mette in scena una sorta di teatro collettivo della femminilità che l'artista fotografa decostruisce insieme alle compagne in effetti mi sembra che uno degli aspetti più originali di questo lavoro sia proprio la sua dimensione collettiva di condivisione che la differenza in qualche modo dal solipsismo di molte delle performance fotografiche coeve pensiamo a Hannah Wilkie ma anche alle celebre immagini di Cindy Sherman degli stessi anni qui ogni forse qui non si vede tanto bene però sono diverse persone diverse donne che incarnano i diversi personaggi quindi qui l'esplorazione visuale e performativa dei ruoli femminili si traduce in uno spazio di sperimentazione di invenzione collettiva di se stesse in un modo che forse riecheggia anche quanto accadeva nei gruppi femministi in particolare attraverso la pratica dell'autocoscienza la pratica dell'autocoscienza come un luogo in cui si prendeva il rischio di pensare se stesse collettivamente nella relazione con le altre quindi per tornare alla questione delle immagini direi che non è un caso se la fotografia sembrava particolarmente adatta a pensare tutto questo e per tornare a John Jonas direi che questa questione del coinvolgimento delle tecnologie della visione con la produzione del femminile passa soprattutto attraverso l'uso del video e l'esplorazione del medium l'uso del video di cui Jonas è anche una delle pioniere tra l'altro infatti in alcuni dei suoi lavori anche tra quelli diciamo evocati precedentemente perché naturalmente tutto questo sono degli stil da video quindi così è un'immagine del tutto parziale ma questo per esempio è in mostra in questi lavori l'esplorazione performativa dei ruoli femminili si associa a un uso critico a un uso sperimentale del video ad esempio Vertical Role del 1972 in cui la decostruzione dei ruoli femminili passa attraverso l'interferenza il fuorisincrono una modalità questa di appunto di disturbare l'immagine video che ritroviamo anche nel lavoro di artiste di diverse generazioni da Vali Export porta a dare a Birnbaum o anche più tardi Pipilotti Rista ad esempio Vertical Role è una performance in cui torna anche questo personaggio di Organicone è dello stesso anno d'altronde e una sorta di performance video in cui John Jonas costruisce un teatro dell'identità femminile attraverso la decostruzione parallela delle rappresentazioni del corpo femminile e della tecnologia video quindi c'è un treccio di questi due aspetti questo Vertical Role il rollio verticale è come un segnale elettronico interrotto è un segnale elettronico che spezza l'immagine in modo da disturbare la visione cioè non vediamo mai l'immagine intera ma è sempre l'immagine che viene continuamente rimessa al moto diciamo con anche un rumore come di un martello che 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 così che sta battendo contro qualcosa questo rollio verticale quindi è un espediente che consente a John Jonas di fratturare l'immagine e di riconfigurarne lo spazio in qualche modo il rollio verticale interrompe continuamente l'immagine e espone in qualche modo anche la materialità della tecnologia video nel video cosa vediamo vediamo John Jonas che si esibisce quindi di fronte alla videocamera con indosso una maschera copricapo di piume che avevamo già visto nell'altro lavoro attorno a Organicone un costume da danzatrice del ventre a volte è il suo stesso volto che compare quindi senza la maschera così quindi c'è un andare un vai e vieni tra se stessa e il personaggio l'alter ego di Organicone e in questo video il corpo il proprio corpo è rappresentato come una sorta di costruzione teatrale che dà vita ad un'autorappresentazione frammentata e fuori sincrono il video lei lo descrive parla del video come una sorta di specchio come uno specchio attraverso il quale osservare la propria immagine ma è uno specchio rotto uno specchio spezzato che traduce un'immagine corporea frammentata un'immagine corporea frammentata nella quale la tensione tra il soggetto e l'oggetto rimanda a quella dimensione conflittuale dei processi di identificazione e di disidentificazione rispetto ai ruoli di genere di cui parlavo prima in un saggio su questo lavoro un'altra storica dell'arte Andrea Jan tedesca credo nota che ciò che è in questione in questo video non è tanto la distruzione dell'immagine corporea ma è piuttosto il tentativo di svelare le strutture che sottendono l'illusione di un'identità femminile assolutamente coerente normata unitaria infatti l'effetto del video è precisamente quello di disturbare sia sul piano metaforico che sul piano materiale della tecnologia di disturbare la possibilità di una rappresentazione autenticamente femminile svelandone la natura illusoria cioè non c'è niente dentro la maschera l'idea della femminità come mascherata non implica l'idea che c'è una verità da qualche parte ma implica che la mascherata che la femminità è la stessa presa in questo processo di imitazione di qualcosa che è dato come autentico ma non c'è niente dietro non c'è niente di nascosso da svelare in tutto questo ecco questa questa è un'altra associazione del tutto libera che faccio io questo ricorso al fuorisincrono all'interruzione del continuum dell'immagine e video è una tecnica in effetti che permette di elaborare punti di vista critici rispetto alla rappresentazione mediatica mediale della femminilità dei ruoli del corpo eccetera e è una tecnica infatti che verrà adottata da altre artiste impegnate a mettere a fuoco questo nesso tra la rappresentazione del femminile e la tecnologia intesa come dispositivo di produzione e di contenimento dei corpi femminili due così possibilità di lettura un video questo anche si può vedere su internet se non l'avete ancora visto vale veramente la pena di Dara Birnbaum Technology Transformation Wonder Woman del 78 un video che diciamo riprende la famosa serie televisiva degli anni 70-80 tagliando nella narrazione isolando i momenti alcuni momenti diciamo in particolare i momenti che rappresentano la trasformazione della donna cioè del personaggio protagonista del telefilm che diventa la supereroina il momento in cui ruota su se stessa se vi ricordate quindi in Technology Transformation Wonder Woman questi momenti vengono isolati e rimontati in una narrazione abbreviata e sincopata in qualche modo è un montaggio che mette l'accento ad esempio sul fatto che questo momento della trasformazione della donna in Wonder Woman è rappresentato come un'esplosione cioè il momento della trasformazione è un momento esplosivo e che rimanda anche che suggerisce forse anche l'idea della sessualità della natura sessuale Wonder Woman è una figura iper sessualizzata allo stesso tempo e dunque in questo lavoro Dara Birnbaum propone cioè mette in scena un arresto un fermarsi un tagliare nel flusso delle immagini televisuali attraverso la frammentazione e la ripetizione perché rivediamo le stesse scene tornare come delle modalità che le permettono di esporre di decostruire l'ideologia televisiva della differenza sessuale della rappresentazione del femminile un altro lavoro è questo dell'86 che è uno dei primissimi lavori di Pipilotti forse era addirittura ancora studentessa I'm not the girl that misses much che si ispira naturalmente all'estetica del videoclip nascente o quasi all'epoca in cui appunto riprende quest'idea di un fuori sincron di una desincronizzazione in particolare tra l'immagine e l'audio l'audio è una ripresa della canzone dei Beatles happiness is a warm gun dove c'è questo ritornello she's not a girl that misses much quindi riprende questo genere appunto del legato alla cultura pop diciamo e alla cultura giovanile riferimento al videoclip però attraverso un'immagine disturbata che impedisce di godere in qualche modo della visione di quello che è un po' il tema motivo predominante nei videoclip cioè delle donne giovani mezze nude che ballano più o meno c'è sempre quello nei videoclip comunque lei è lei stessa che si mette in scena in questa situazione mimetizzandosi però con il ruolo con la figura dell'ammiratrice della fan della fan isterica che grida che canta la canzone in accelerato eccetera quindi un'accelerazione una manipolazione del video e dell'audio che produce l'effetto di un eccesso di questo eccesso di emozione l'isteria delle fans dei Beatles eccetera un eccesso quindi che è significato anche da una soggettivazione a cui rimanda il passaggio che fa Pippi Lottiris da lei da She's Not The Girl a Liono quindi una soggettivazione se vogliamo di una modalità della cultura pop di una forma della cultura pop che passa però attraverso il disturbo ancora una volta attraverso qualcosa di disturbato e disturbante che rimanda ancora una volta alla questione della materialità della tecnologia e al ruolo che lei ricopre quindi è una dimensione anche conflittuale di emozione allora forse sto già parlando troppo comunque arrivo alla mia conclusione anche tornando al personaggio di Organicone e forse agli aspetti più soggiacenti contenuti insomma convocati in qualche modo da questo personaggio e come dicevo in apertura vorrei provare a concludere la mia lezione il mio intervento oggi con una riflessione aperta per me sulla possibilità di leggere il lavoro di John Jonas come il tentativo di dar voce e corpo ad un'eccedenza femminile un'eccedenza femminile o un'eccedenza del femminile che è un termine che prende in prestito a Teresa De Lauretis una teorica femminista Teresa De Lauretis quando scrive che il genere non è soltanto l'effetto della rappresentazione ma è anche il suo eccesso la rappresentazione di una soggettività femminile diciamo così irregolare non normativa critica disturbata disturbante si radica come abbiamo visto nel quadro della rivoluzione femminista storico però è una rappresentazione che mette in gioco anche una serie di genealogie che rimandano ad una storia femminile rimossa stratificata quando Jonas qui dichiara di interessarsi al ruolo delle donne come outsiders come marginali si richiama a delle figure molto significative guaritrici streghe maghe abbiamo visto prima la organica come una maga elettronica come narratrici come una serie di figure archetipali in qualche modo di una soggettività femminile che è stata storicamente al centro di un'offensiva patriarcale naturalmente per contenerne l'autonomia e le potenzialità di libertà è un libro veramente importante di Silvia Federici che non so anche se esiste in italiano si chiama Caliban and the witch Caliban è la strega donne corpi accumulazione primitiva Silvia Federici che è un libro sulla caccia alle streghe nel suo nesso con l'impresa coloniale per riassumere veramente in due parole Silvia Federici spiega come la caccia alle streghe che fu una vera e propria ecatombe una vera e propria guerra dichiarata alle donne che durò quasi due secoli facendo tantissimi morti la caccia alle streghe non fu altro che un attacco dice Federici sferrato dalle forze congiunte del patriarcato e del capitalismo nascente contro un mondo di soggetti e di saperi femminili che andava annientato cancellato l'eretica la guaritrice l'allevatrice sono i secoli al momento della nascita anche della scienza moderna se ci pensate la donna ribelle la donna che osava vivere da sola la donna che gestiva in autonomia il proprio corpo che gestiva la propria sessualità la propria riproduzione eccetera tutte queste figure erano considerate come streghe quindi bruciate perseguitate eccetera e forse mi piacerebbe tenere a mente queste osservazioni di Silvio Federici nell'osservare nell'interessarmi al modo in cui John Jonas attiva una serie di figure legate al folklore alla natura all'idea di una potenza degli elementi naturali alle leggende in particolare le leggende che mettono in scena figure femminili eccedenti queste figure femminili forti queste stone women di cui parla quindi il suo interesse per queste diciamo per questi temi per questi figuri figure scusate ma anche diciamo tenere a mente queste riflessioni su appunto questa eccedenza femminile che va contenuta che è stata cancellata che è stata rimossa anche per pensare il modo in cui la sua immagine stessa la sua propria autorappresentazione di artista diciamo è evoluta soprattutto negli ultimi anni ma in realtà con elementi già fortemente presenti sin dall'inizio questo vabbè è un lavoro degli anni 80 forse l'89 mi sono sbagliata di data questa è mostra con tutta l'installazione Volcano Saga che è proprio forse uno dei primi lavori in cui diciamo le tematiche precedenti il modo in cui lei rifletteva diciamo sulla rappresentazione della femminilità del genere viene riarticolato ripensato dentro una cornice narrativa negli anni 80 c'è un po' questo passaggio anche verso una dimensione narrativa che era assente nei lavori degli anni nella maggior parte in ogni caso dei lavori negli anni 70 è un video che si ispira a una saga islandese del medioevo del XIII secolo in cui c'è questo personaggio femminile Gudrun interpretato da Tilda Swinton che sogna che ha dei sogni premonitori eccetera è molto interessante poi da vedere in mostra il modo in cui lei associa le immagini della natura islandese come paesaggio capace di tradurre l'immaginazione e i desideri della donna al centro di questo lavoro questa è un'altra parte di un lavoro in mostra che ancora una volta convoca un'immagine femminile antica che è un po' a metà tra appunto una figura della melancolia ma che comunque convoca un'idea del folklore del mito della leggenda della fiaba anche una grandissima fonte di ispirazione per John Jonas e queste sono delle immagini tratte da reanimations soprattutto la performance che devo dire ha avuto veramente la fortuna di vedere non qui ma a Parigi dove l'ha presentata a dicembre in questa performance ecco la presenza di John Jonas sulla scena con le sue maschere la sua gestualità il suo modo di fare interagire disegni cioè il disegnare piuttosto i suoni le campanelle i vari strumenti che lei usa la voce la narrazione ecco tutto questo a me fa tornare in mente quest'idea della maga elettronica questa figura che lei aveva evocato per parlare del suo personaggio del suo alter ego Organic Honey mi sembra che in modo simile a quanto avveniva negli anni nei primi anni settanta Jonas qui incarna una figura femminile capace di manipolare segni utensili oggetti attraverso l'integrazione di video e performance e sia allora che adesso la dimensione diciamo tecnologica coesiste e sovrappone a quella rituale magica in qualche modo attivata dalla presenza dell'artista sulla scena qui forse la decostruzione dei meccanismi di visualizzazione di costruzione della femminilità c'è del passo ad una figura che è più ispirata al folklore alle culture indigene Jonas si interessa tantissimo anche una viaggiatrice agli rituali delle popolazioni autoctone in particolare nel continente nordamericano ma in un'articolazione che secondo me assume anche una postura se vogliamo di resistenza comunque una posizione nei confronti degli attuali meccanismi di spoliazione di sfruttamento del territorio che vedono al centro dei conflitti che vedono i popoli insomma le popolazioni autoctone al centro di questi conflitti diciamo in un'epoca segnata dallo sfruttamento senza precedenti delle risorse naturali come sapete molti scienziati non solo dicono che siamo entrati in un'area geologica diversa determinata in cui l'azione dell'uomo agisce a livello della storia profonda del pianeta a livello geologico l'antropocene ecco questa autorappresentazione a cui forse insomma finisco a brevissimo questa autorappresentazione di John Jonas come appunto una maga una sciamana mi fa venire in mente altre figure di artiste che sono ispirate a un immaginario derivato dalle culture non occidentali oppure dalle fiabe in modo che connetteva diciamo il proprio essere artista con una serie di figure che rimandavano all'alterità la metamorfosi eccetera con forse anche un'esplorazione un'identificazione che guardava più a un versante rimosso della cultura quell'irrazionalità che così spesso viene attribuita alle donne ma anche ai cosiddetti selvaggi diciamo facendone una fonte di ispirazione per pensare la propria differenza in quanto artiste forse anche un'autorappresentazione che traduce anche una posizione nei confronti della storia dell'arte della storia maschile della storia intesa come una serie di eventi di conflitti che si dipanano così in successione cronologica sono questioni queste che vengono che trovano nuove forme diverse nuove configurazioni nei lavori di artiste di un'altra generazione come ho pensato a Pauline Baudrill e Renate Lawrence forse anche con una dimensione politica più esplicita diciamo e due artiste che pongono con forza nel loro lavoro la questione della differenza Baudrill e Lorenz si chiedono per esempio come trasformare la normalità oggi come vivere la differenza senza perdere l'autonomia senza essere recuperati da altri senza indulgenza nei confronti delle proposte di integrazione nell'economia liberale ecco mi sembra che queste questioni risuonino in qualche modo in qualche modo con i lavori più recenti di John Jonas che io trovo veramente molto tempestivi molto attuali e non è sempre il caso per il lavoro di artiste della sua generazione di adesso mi sembra che questo diciamo questa per concludere diciamo perché mi sembra che ho oltrepassato il tempo che mi era stato attribuito direi che questa rappresentazione dell'artista come una sciamana come una maga come una strega che assembla e crea suoni immagini attraverso un rituale una serie di rituali complessi ci parla forse proprio di quella di quell'eccedenza di quella di quell'eccedenza del femminile che ho tentato di introdurre in apertura alla lezione direi che nel lavoro di John Jonas come anche quello di altri artisti la differenza è costantemente reimmaginata performativamente attraverso una moltiplicazione di figure la maga la strega ma anche la prostituta la donna erotizzata che segnalano la possibilità di uno scarto rispetto alla morte alla norma scusate in ultima istanza anche di una forma di libertà e di autonomia grazie di avermi ascoltato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti